Salve a tutti ragazzi e bentornati sempre sul canale FadeCompany, siamo qui con Fallout 4 e oggi vi farò vedere un po' com'è realmente Fallout 4 perché molte persone pensano che sia uno sparatutto in realtà è un GDR con la variante sparatutto ma vi farò anche vedere che questa è una missione secondaria chiaramente non è uno spoiler, chiaramente posso mettere anche la visuale in terza persona ma a me piace di più la prima persona perché ricorda un pelino lo sparatutto tradizionale diciamo che, ecco non so cosa è successo, chiaramente non è un commentario live ragazzi ve lo dico lui è Nick Valentine posso appunto comandarlo e mandarlo a sbloccare i terminali perché è un sintetico quindi un robot se no lo dovrei fare io però non ho abbastanza abilità perché ci sono le abilità in sto gioco ecco adesso sicuramente non ce la fa ecco qui che questa è praticamente la mappa di tutto il gioco e come potete vedere ho esplorato parecchie cose queste sono le missioni e queste sono tutte le mie pistole e armi come potete vedere ce ne sono parecchie sì diciamo che qualcuna è scarsa qualcuna è meno scarsa però nel senso i proiettili si trovano abbastanza però più che altro trovarli un po' è un casino più che altro a comprare e adesso ci sta provando l'altro mio compare cazzo adesso è finito l'effetto del buffer ecco appunto devo riutilizzare un buffer che praticamente mi è una provvista che mi aiuta a col peso trasportabile vedete che adesso va lento perché ho troppa roba e quindi questo medicinale mi aiuta con dove cazzo è dove sto andando mi ricordo più eccolo qua buffer praticamente mi aiuta appunto ad andare più veloce anche nonostante ho tanto il peso trasportabile ecco qui si incomincia un po' a sparocchiare come potete vedere fra un po' si inizierà a sparare ecco questo qua praticamente è il sistema spav che soltanto in questo gioco c'è come potete vedere è uno sparatutto ma non è così ecco questo è lo spav ma chiaramente ho sbagliato non è così cioè a voi sembra semplice da utilizzare ma non è semplice perché non è preciso come può essere un call of beauty comunque questo tipo di gioco perché appunto ha questa variante che non è il non è il semplice sparatutto appunto allo spav inoltre va tanto sull'abilità lo spav quindi la precisione dello spav è influita tantissimo dall'abilità che hai con lo spav che puoi mettere tu mettere aggiungere in senso fare un po' come cacchio vuoi tu per quello che dica che è un GDR vedete questo qua è lo spav e poi posso appunto scegliere io quando fare il colpo critico e il colpo critico chiaramente è il colpo più potente lo si attiva dopo un po' di tempo in automatico il ecco questo qui invece è la terza persona lo si attiva dopo un po' che si ammazza gente comunque si ammazzano i nemici ecco qui adesso ho sbagliato perché dovevo prima ricaricare però me l'ha ucciso il mio amico fedele perché puoi farti amici puoi farti gli anni e vedi come raccolgo tutte le munizioni questo è abbastanza classico però ci sono anche i tappi che sarebbe la manetta del gioco si possono raccogliere tantissime ecco adesso qua mi dice il Pip-Boy che sarebbe appunto il computer di bordo che ho dato prima per muovermi nella mappa che ho un nuovo talento da mettere una nuova abilità da mettere per chi si sale di livello diciamo che non bisogna confonderlo con i vari giochi e fps arena oppure comunque call of beauty cose perché non è così potete vedere qua posso attivare la torretta o disattivarla l'ho attivata per far fuori chiaramente i sintetici come potete vedere sparano ai sintetici la torretta spara ai sintetici perché l'ho attivata io contro i sintetici e adesso i sintetici purtroppo faranno fuori la torretta però io farò fuori loro avete visto? figata queste cose è solo un fallout 4 o comunque un fallout tipo tipo farfare perché appunto è fatto così come gioco quindi in senso figata è veramente bello come gioco secondo me è un giocone perché è grandissima la mappa ci sono tantissime missioni è l'unica cosa che non mi piace tantissimo perché tante missioni secondarie sono molto ripetitive e quindi fa un culo mi dà veramente fastidio sta cosa è una di quelle cose che proprio non sopporto qua devo hackerare il monitor e ce l'ho fatta di culo qua va a culo ragazzi non ci sono cazzi c'è veramente comandi porta sicurezza apri porta e la porta viene sbloccata potevo farlo fare anche al mio amico sintetico però l'ho fatto io così giusto parlo se non riuscivo a farlo lo facevo fare a lui salviamo perché bisogna salvare ogni volta e la cosa importante è proprio quella il salvataggio è rapido c'è scritto rapido perché appunto ti permette di salvare quando vuoi perché qua se crepi ti cominci da capo e non mi sembra cosa ecco qua ho sbagliato perché non si fa quasi mai lo spav da così vicino poi chiaramente se utilizzi un fucile a pompe lo puoi fare però nel senso lo spav deve ricaricarsi con la barretta a destra che è scritto PA più PA hai e più ecco qua proprio sbagliato più PA hai e più riesci a dare colpi ho colpito anche Nick Valentine per sbaglio ho colpito il mio alleato gli alleati possono non morire ma possono stordirsi e dopo un po' che ammazzi i nemici circostanti si li animano automaticamente se non riesci a far fuori tutti i nemici puoi comunque guardarlo tu e rianimarlo poi invece mi leggo un po' di cose se ci può fare qualcosa non si poteva fare niente quindi e invece PS dall'altra parte sarebbe questo è il nucleo di fiusione che sarebbe per l'armatura atomica non ve lo sto neanche a spoilerare però è così dormire chiaramente avete visto far recuperare la vita che sarebbe il PS quindi la parte la barra sinistra e quando prendi le radiazioni se vedete bene c'è una barra rossa vicino piccolissima al PS che è verde sarebbe la barra della vita praticamente le radiazioni ti tolgono vita questo è quanto ecco qua per esempio non riesco ad hackerarla perché ci serve un'abilità che io non ho o comunque è troppo alta l'abilità allora dico Nick vai tu aprimi il terminale perché come potete vedere nell'altra porta ci sono delle mine a laser che non mi va di disinnescare perché io sono capace di disinnescarle ho l'abilità però non mi va perché poi mi porto dietro troppo materiale c'è il peso trasportabile in questo gioco quindi mi rallenterebbe troppo adesso lui ha fatto adesso io posso entrare comandi ottica E disattiva lo disattivano e siamo a posto potete vedere sono sparite le trappole questa è una gran figata è una figata l'auto è una figata ma è sempre stata una figata anche le altre ecco qua ci sono di nuovo altri stronzi chiaramente adesso ho caricato il critico quindi pam gli do una bella botta ed è quasi andato non vi sto neanche a spiegare perché io ho un sintetico come amico e là ci sono sintetici nemici non ve lo sto dicendo non ve lo sto a spiegare perché sennò rovinerei la sorpresa a chi vuole giocarselo come potete vedere graficamente è figo perché è per pc è figo anche per ps4 il mio amico Andrea l'ha comprato adesso salutiamo Andrea che sicuramente non guarda questo video perché non vuole spoilerarsi nulla però perché lui è un amante di fallout però ecco questo video è fatto anche per un altro mio amico perché lui è infognato se non gli piacerebbe prenderlo e cose io lo posso consigliare sia agli amanti di fps che non perché comunque una variante fps ce l'ha puoi anche non usarlo lo spavo lo spavo è un aiuto in più se non sei tanto bravo con la mira e poi certi mostri comunque li devi ammazzare con lo spavo non ci sono cazzi perché? perché tipo le api così svolacchiano e non riesci ad acchiapparle veramente non ce la fai veramente è veramente difficile perché svolacchiano e con questa mira cioè con questo tipo di gioco è difficile qua intanto lo prendo solo una volta però vabbè fa niente però vado così di prepotenza potete vedere anche la colonna sonora è veramente molto bella ecco qua intanto prendo sempre le munizioni chiaramente perché non devono scosteggiare se no ce la andiamo nei cazzi adesso qua devo attivare l'ascensore però prima di attivare l'ascensore ecco lì dovrebbe esserci il terminale che non è bloccato quindi posso subito fare attiva alimenta ascensore in maniera torretta non me ne frega niente perché tanto la torretta è partita alimenta ascensore fatto chiaramente questo ho già detto prima non è un commentario live lo sto facendo dopo il commento sopra il video adesso io ve lo farvi vedere anche perché mi sono ricordato di qua mi ricordo che sono andato appunto qui e ho fatto questa cosa praticamente questa è una cosa che si può sbloccare solo con l'abilità tu parti con l'abilità base e poi con le forcine che trovi in giro tu apri le serrature è una gran figata perché è abbastanza realistico si apre la cosa e prendi tutto quello che c'è non c'era praticamente un cazzo qui soltanto un nucleo di fusione potete vedere infatti mi ricordavo bene però il nucleo di fusione è ben pagato e poi se non hai il nucleo di fusione non puoi usare l'armatura atomica che sarebbe l'armatura appunto che ti permette appunto di far fuori i nemici più ostici e vedete salvo di muovere non si sa mai meglio salvare di caso che mi arriva un death club comunque un mosto grande e sono bei cazzi cioè sinceramente è abbastanza tattico come fps perché se tu non fai attenzione ti fanno fuori abbastanza velocemente poi vabbè questi sono abbastanza scarsi sembrano scarsi in realtà però perché io ho l'arma giusta e sono del livello giusto e ho delle armature a livello giusto nel senso a livello giusto e potenziate come si deve quindi non mi fanno praticamente un cazzo ma questi qui questi nemici quali ho trovato all'inizio sono veramente ostici qua richiede la password inaccessibile farà tutto di icon che sarebbe praticamente uno di una frazione che non vi sto a spiegare quale frazione sia ecco qua appunto mina tappi qua ci vede tutto quello che posso sgraffignare lo sgraffigno adesso dovrebbe aprire la porta sembra una porta di un volt ma in realtà no e salviamo di nuovo perché non si sa mai e volevo prendermi qualcosa per la cura e ho fatto lo steam pack che sarebbe praticamente la cura del gioco poi tu puoi curarti anche mangiando quindi però chiaramente mangiando se mangiate della carne scusate mi è venuto mi si inghiozzo se mangiate della carne per dire è irradiata e quindi ha delle irradiazioni qui stanno parlando dei cazzi loro chiaramente se volete leggere leggete mi ha dato questa bellissima pistola migliore la probabilità di usare lo spav il silenziatore quindi buono così figo vedete è la prima missione praticamente di questa fazione della loro fazione ecco come potete vedere ho preso questo è lo stat boy praticamente serve per diventare invisibile ho preso tante cose e adesso sono pesante una merda infatti devo buttare per perché puoi dargli anche la roba a lui che è il tuo compagno ma lui non può poter asportare nulla e quindi mi tocca togliere della roba così invece di vendere perché puoi anche vendere la roba mi tocca togliere delle robe sto dicendo appunto se mangi della carne per dire di bestie mutate è molto probabile che abbiano delle delle radiazioni quindi non è tanto il massimo diciamo del del comfort chiaramente qualche pezzo sarà tagliato perché chiaramente alla fine adesso poi vedrete ho sbagliato sono entrato 200 volte avanti in diretta non riuscivo a trovare l'ingresso principale di questa fazione anche perché la prima volta che ho trovato la fazione ho fatto subito una loro missione secondaria perché volevo fare appunto un video poi fatemi sapere chiaramente nei commenti ecco questo è il bug chiaramente perché chiaramente succede sempre così quando si prende l'ascensore e si è più di uno minchia si schiaccia sempre da qualche parte questa è una porta che chiaramente si può aprire e io come al solito vado sgraffino guardo un po' cosa c'è c'è dalla birra ecco allora mi bevo la birra perché chiaramente non posso sennò andare avanti e queste qua sono tutte le cose e poi ho aggiunto un tappo perché chiaramente i tappi servono per guadagnare sono i soldi diciamo ecco sto uscendo vediamo se riusciamo a uscire tranquillamente i caricamenti sono un po' lunghi anche per pc però fondamentalmente è un gioco talmente vasto che ti non te ne frega un cazzo sinceramente gli altri caricamenti ve l'ho tolti perché non volevo appunto che vi rompesse i coglioni ecco dovremmo esserci dovevo far fuori gli ultimi stronzi ecco dovrebbero essere qui ecco 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 appunto adesso facciamo fuori tutti qua me la son vista brutta perché non sapevo da dove cazzo cioè brutta no però nel senso non li vedevo dove cazzo erano poi mi sono accorto che ce l'avevo dietro questo potete vedere è una cosa senza senso proprio arcatra vedete vedete non è tanto semplice come gioco cioè è abbastanza tattico più che altro devi fare attenzione da dove da dove sono poi chiaramente il mio compagno non so dove cazzo era andato prendiamo sempre le solite munizioni ricarichiamo ragazzi lo ripeto lo ripeto un'altra volta la mira in questo gioco non è così precisa come può essere uno sparatutto lo dico e lo ridico di nuovo è molto più legnosa migliorata rispetto al 3 ma legnosa e non è non me ne frega un cazzo che sia legnosa non è una cosa sfavore perché fallout è così fallout è un gioco di ruolo infatti ha lo spav ha tutta questa popò di roba da seguire e intanto c'è anche il trasporto rapido perché sennò sarebbe una rottura di cazzo se veramente sarebbe una rottura di coglioni quando scopri un posto praticamente puoi fare il trasporto rapido bene ci becchiamo alla prossima ragazzi ciao a tutti condividete il video e iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale